Weee! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi come sempre voce a parte tante novità anche oggi tra l'altro ufficiali da parte di Epic Games per quanto riguarda questo finale di season di Fortnite. Vi avevo già anticipato nei video precedenti che ci sarebbero state delle modifiche importanti in season 11 soprattutto per dare la possibilità anche ai giocatori meno esperti di avere un'esperienza di gioco uguale o comunque molto simile a quella che hanno chi invece gioca a Fortnite da più tempo. Nel video di oggi infatti parleremo dei nuovi bot, quelli che verranno introdotti appunto nei matchmaking dalla season 11, un bel po' di risposte alle vostre domande ma come vedete ragazzi anche il nuovo concerto in arrivo. Sono state trovate delle modifiche nei file di gioco di questo pomeriggio sapete che c'è stata una patch molto molto piccola che apparentemente ha fissato se non ricordo male i problemi di AIM con il controller. Da chi utilizzasse invece mouse e tastiera ma appunto con un controller attaccato in realtà è stata modificata anche una cartella quella relativa ai festival che sono in poche parole i concerti, il concerto di Fortnite e poi anche alcuni aggiornamenti sulla modalità combine, combinazione quella in italiano che sembra rimarrà per sempre. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno utilizzano il mio codice creator xyuderone e tutti quelli che rimangono in live su Twitch da quando iniziamo a quando finiamo. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi tantissimi al canale e soprattutto se la trovo attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però la domandina me la devo fare anche ieri mi avete risposto in tantissimi e vi ringrazio un sacco per i commenti che lasciate sotto questo video domanda di oggi molto molto personale. Ma qual è la tua arma preferita attualmente quindi tra le armi presenti in gioco qual è quella che preferisci più di tutte? La mia ragazzi è il fucile a pompa a ripetizione lo spaz se vogliamo chiamarlo in gergo che sia il leggendario o che sia epico poco cambia trovo che sia in questo momento l'arma più forte del gioco anche se in realtà c'è pure quella mitraglietta lì tattica che fa tanto tanto male. Ma quindi ciancio alle vande è partita l'altro e vado alle ciance. Andiamo subito subito ragazzi a parlare appunto degli aggiornamenti ufficiali che direttamente Epic Games ci rilascia nell'aggiornamento di ieri 3 ottobre. Matchmaking bot comandi e combine aggiornati. Wai la gente è il momento di aggiornare la conversazione che abbiamo iniziato la settimana scorsa sul matchmaking di Fortnite e sui bot e sulle nuove impostazioni di comando e la playlist di combine. Come già detto nelle note della patch abbiamo un annuncio importante da fare riguardo alla stagione X. La stagione X sarà prolungata di una settimana per concludersi domenica 13 ottobre. Molti leakers stanno dicendo che l'evento sarà non questo sabato ma sabato 12 con conclusione della season domenica. La prima volta in assoluto che una season se non ricordo male chiuda in fine settimana. Questo significa una settimana in più per completare il tuo pass battaglia perciò gettati nella mischia per intascare le ricompense della stagione X. Nel frattempo abbiamo implementato ulteriori modifiche. L'aggiornamento 10.40.1 include migliorie chiave alla playlist di combine e la modalità a tempo zone wars. Effettivamente le abbiamo viste ma quello che ci interessa è sapere proprio gli update all'aggiornamento dei matchmaking. Come dicono per ora abbiamo lanciato un nuovo sistema di matchmaking. In questo modo per selezionare la regione per la modalità in singolo e prevediamo di introdurlo per le coppie nella prossima settimana. Quindi quella che sta arrivando. Con il lancio abbiamo visto numerose discussioni su quando sarebbe iniquo, quindi iniquo vuol dire non equo, far affrontare giocatori con piattaforme periferiche di comando diverse. E secondo me hanno assolutamente ragione. Ma il nuovo sistema di matchmaking è progettato proprio per individuare i livelli di abilità e raggruppare i giocatori con abilità simili. Indipendentemente dalla piattaforma o dal sistema di comando. Quindi potreste trovare nella vostra partita anche chi gioca per dire da PS4 o se giocate da PC ma con la vostra stessa esperienza di gioco. Il nostro obiettivo nel nostro sistema di matchmaking è di creare partite più eque per tutti i giocatori. E quindi tenere in conto l'impatto di ciascuna piattaforma. In altre parole i giocatori saranno abbinati ad avversari con abilità simili individuati tra tutte le piattaforme. Mouse più tastiera, controller o comandi touch. Stiamo monitorando attentamente i dati delle partite e i vostri commenti per applicare le modifiche. Quindi qua vuol dire che la community si fa sentire. È tanto che ne parliamo ed è completamente giusto che in season 11 vengano fatti dei matchmaking in base alla bravura del giocatore. Altrimenti si rischierebbe veramente di incappare in server dove ci potrebbero essere degli animali. Che quindi giustamente non ci facciano godere al 100% la partita. Per quanto ne sappiamo ragazzi ci saranno i bot nella season numero 11. Cosa vuol dire? Ci saranno in poche parole i personaggi creati dal sistema introdotti nella mappa per fare il riempimento e quindi poter agevolare il metodo di gioco dei meno esperti. Quindi le domande sono se vengo sconfitto da un bot cosa vedrò come spettatore? Non seguirai il bot che hai sconfitto ma vedrai un altro giocatore sopravvissuto. Se sei l'ultimo giocatore umano rimasto la partita terminerà. Quindi c'è la possibilità che vincano anche i bot. Potrò fare squadra con i bot? No. Al momento non prevediamo di supportare la funzionalità. Quindi le squad se le fate con il riempimento troverete sempre degli altri giocatori. I bot possono usare i veicoli, sfrutteranno le fortificazioni in altezza. Non ancora ma stiamo studiando come sviluppare i bot su lungo periodo. Il che vuol dire che bene o male i bot li trovate in giro per la mappa ma difficilmente li troverete costruire. Posso giocare una partita esclusivamente contro i bot? Stiamo studiando una modalità di gioco contro i bot per i giocatori che vogliono allenarsi. Quindi aspettatevi anche di trovare delle partite che probabilmente non saranno classificate contro il computer. E in modalità creativa invece i bot non saranno presenti. Quindi un sacco di modifiche anche per quanto riguarda le impostazioni del controller. Ve lo vado un attimo a ripetere brevemente. Vogliono migliorare anche la mira per chi gioca da mouse e tastiera. Se non ricordo male in questo articolo viene detto che stanno cercando di implementare un sistema di precisione assoluta della mira e migliorie nella costruzione. In poche parole ragazzi chi utilizza mouse e tastiera avrà delle opzioni. In più se ne parlo ovviamente sempre in season 11. E sappiamo anche che la modalità combine che è stata apprezzata tantissimo dagli utenti non sembrerebbe non verrà tolta. Almeno per il momento siccome quelli di Epic Games si sono accorti che i giocatori facevano veramente delle cose molto molto belle quindi quasi certamente sarà possibile giocare nella modalità combine anche nella season 11. E chiudo ragazzi con l'ultimo argomento di oggi. Volevo farvi vedere questa immagine ve la ricordate? Ce la ricordiamo tutti. Il fantastico concerto di Marshmallow l'unico concerto attualmente fatto virtualmente in Fortnite e credo anche al mondo intero ma abbiamo come vi dicevo degli aggiornamenti. Quest'oggi nella cartella Festivus o Festivus che è quella dedicata proprio al concerto sono state aggiornate tutte le voci. Festivus Balloon, Festivus Big Stays Rush, Festivus Confetti, Festivus Firework che sono i fuochi d'artificio Festivus Golden Sparks e Festivus Shotting Stunt che sono in poche parole gli effetti scenici. Non sappiamo nient'altro, questa è proprio una chicca che vi ho lasciato in finale. Io spero davvero che le news di oggi vi siano piaciute. Mi raccomando un bel pollicione in su. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in live alle 8 su Twitch. Ciao! Ciao!